La candidatura della Moratti è la candidatura della destra. E però lei chiede votissimo. Ho capito, ma il PD è un partito di sinistra e non può votare una candidata di destra. Ma chi danneggia di più questa candidatura della Moratti? Questo è il PD di destra o male? Penso la destra, è un problema sul quale la destra si deve interrogare. Certo non noi che metteremo in campo il migliore o la migliore candidata possibile.